Ciao ragazzi, benvenuti al nuovo vlog di C'è Crisi Show. Oggi vogliamo parlarvi di tre cose. La prima cosa è quello che vuole assolutamente vedere, la terza puntata. Cliccate sul mio spazzolino per rivederla. Numero 2, il quarto episodio uscirà il 13 marzo. Segnatevi la data. La numero 3, che poi è la più importante, è che mettiamo in palio due magliette di C'è Crisi Show. Tra l'altro è questa qui, la tipica t-shirt che si usa dopo aver fottuto oppure per andare in spiaggia. Come si fa a vincere la maglietta di C'è Crisi Show? Niente di più semplice. Andate sulla nostra pagina Facebook, che apparirà in sovraimpressione, e leggete il regolamento. Per rallegrare questo vlog vi lasciamo con un video. Direttamente dagli errori della terza puntata, Jacopo che ride immutivatamente per 40 secondi. Ti riprendi, stai. Yeah, stai. Yeah, stai. Perché sto a ridere?